Ok, buongiorno a tutti, siamo qui per cercare di vedere con pochi passaggi come io mi siederai qua se non è un problema per il video, perfetto, così riesco anche a fare direttamente il cambio delle slide. Siamo qui oggi per vedere come grosse aziende, ad esempio Netflix, Spotify, Amazon, vedremo diverse, hanno oggi preso modo di utilizzare i dati che lasciamo in giro in maniera molto spontanea per migliorare la nostra vita. Mi presento, sono Esther Liquori, sono CEO di una società che si chiama You Are My Guide che si occupa fondamentalmente di viaggio, quindi appunto quello che mi piace fare è aiutare le persone a conoscersi meglio, a capire cosa piace alle persone e soprattutto alle persone che amano viaggiare. La società si è evoluta moltissimo, siamo passati in maniera molto veloce nel corso degli anni, magari più lentamente inizialmente ma poi in modo sempre più veloce, da come eravamo, quindi una situazione molto primitiva, a essere degli individui totalmente digitali, alle volte anche troppo. Anche il nostro modo di viaggiare è completamente cambiato, inizialmente viaggiavamo con delle cartine, con delle musiche a sette per tenerci compagnia, la macchina fotografica, la bussola per sapere dove andavamo o se guardiamo un attimo alla compagine italiana pensiamo un attimo alle cartine Michelin che ci portavano in giro per l'Italia. Ovviamente la tecnologia si è evoluta allo stesso modo, quindi una volta che sono nati i primi dispositivi portatili, dal vecchio ETAX siamo andati man mano in maniera sempre più veloce ad arrivare a dispositivi che oggi ci accompagnano in ogni fase della nostra vita. Quindi c'è stato questo balzo temporale tecnologico che ci ha portato a utilizzare i nostri dispositivi mobile veramente per condividere ogni aspetto della nostra vita, quindi siamo costantemente connessi, siamo in contatto con tantissimi amici, alle volte anche amici che in realtà non abbiamo mai visto, perché sono semplicemente parte di una rete che abbiamo cominciato a instaurare e a stabilire in maniera del tutto digitale. Come dicevamo quindi la nostra società lascia delle impronte digitali, semplicemente utilizzando delle applicazioni quotidianamente di cui non ci rendiamo alle volte neanche conto, semplicemente lasciamo dei dati, condividiamo dei contenuti, diamo delle informazioni, non specificatamente magari su di noi o su quello che stiamo facendo adesso, anche se molto spesso sì, ma anche semplicemente su gusti, su preferenze, dando informazioni sul ci piace qualcosa piuttosto che un'altra. Quello che generiamo fondamentalmente sono quelli che vengono oggi chiamati dei big data, big data perché sono veramente moltissimi, sono una grande quantità di dati dalle più svariate fonti, possono essere video, possono essere audio, testi, semplicemente appunto like, tutto quello che facciamo quotidianamente ormai nella nostra vita digitale. Tutto questo comporta anche dei vantaggi ovviamente per noi, perché le aziende sono in grado di capire meglio quelle che sono i nostri gusti e le nostre esigenze. Vediamo qui ovviamente Homer Simpson che sta bevendo una birra, la birra per Antonomasia per Homer Simpson è la DAF e la DAF automaticamente gli propone qualcos'altro allo stesso marchio perché sa che è un affezionato utilizzatore del suo marchio. fondamentalmente sullo stesso principio di filtraggio dei dati si basano aziende come Amazon, come Netflix e Spotify che appunto quello che fanno non è altro che analizzare e vedere quello che sono i contenuti che preferiamo, che condividiamo, che suggeriamo agli amici per capire quelli che sono i nostri gusti e permetterci una facilitazione rispetto al vecchio modo di fruire della musica, al vecchio modo di fare acquisti. Perché mentre prima pensiamo al mondo del retail, quindi degli acquisti, entravamo per motivi anche di tempo in uno o due negozi, facevamo il corso principale e facevamo una velocissima comparazione dei prezzi, oggi volendo trovare e spuntare l'offerta migliore che è disponibile su internet, abbiamo grandissimi dati anche noi stessi da utenti finali da dover comparare. Quindi magari alle volte ci perdiamo. Quindi il grande vantaggio di utilizzare sistemi come Amazon, Spotify, Netflix è un grande risparmio di tempo, è un avvicinamento a quello che sono effettivamente i nostri gusti e le nostre preferenze. Tutto questo di cui abbiamo parlato si chiama collaborative filtering, ovvero appunto non è altro la comparazione di grande mole di dati, ma anche una comparazione fra profili di utenti simili a noi che scelgono contenuti simili ai nostri. Per grande approssimazione e poi man mano per approssimazione sempre più accurata, queste grandi aziende non fanno altro che vedere che il signor Mario Rossi ha visitato una serie di contenuti, probabilmente il signor Francesco Bianchi avendo visitato un'altra serie di contenuti ne ha perso uno di quelli che aveva visto Mario Rossi e allora gli viene suggerito in automatico come contenuto potenzialmente interessante. Ovviamente dal fatto che ciascuno di noi accetta o meno certi suggerimenti, questo va a contribuire poi a quello che è effettivamente la differenza tra i singoli profili degli utenti. Immaginiamo ad esempio al di fuori da quello che è la tecnologia, in generale anche come viviamo banalmente il momento di pausa relax del caffè. Se io adesso chiedessi a voi, siamo a un numero abbastanza contenuto, però se chiedessi a voi come preferite bere il vostro caffè, vivere la vostra pausa relax, sono abbastanza sicura che ciascuno di voi mi darebbe un'informazione diversa, perché quello che è uno stesso contenuto, ovvero il caffè, viene personalizzato per ciascuno di voi secondo quello che sono le vostre preferenze. Quindi un altro grande tema che oggi la digitalizzazione sta affrontando, oltre al suggerimento basato sul contenuto scelto o non scelto, è quello della personalizzazione del contenuto, perché ciascuno di noi è diverso e non basta andare per approssimazione, per similitudini, ma bisogna andare incontro a quelle che sono le esigenze di ciascuno. Quindi si sta passando da quello che è un collaborative filtering, di cui abbiamo visto prima qualche esempio, basato quindi su una scelta sulle piattaforme, su storico delle piattaforme, a quello che è un'impronta digitale, un modello basato su un'impronta digitale, quindi quello che effettivamente noi facciamo nel nostro quotidiano. Questo impatta in altre moltissime situazioni, ad esempio nel caso dell'applicazione che ha sviluppato la mia azienda si tratta del tema del viaggio. Ciascuno di noi ha un modo diverso di viaggiare, vuoi perché viaggiamo da soli, viaggiamo per affari, magari viaggiamo per vacanza unificata agli affari, viaggiamo in famiglia, uno, due, tre bambini, le situazioni cambiano ovviamente moltissimo già a livello personale. Poi si approfondisce a livello di quello che sono i gusti personali, c'è chi ama l'arte moderna, c'è chi preferisce vivere la natura, quindi ci sono moltissimi aspetti che concorrono a costruire quello che è il nostro viaggio ideale. E le informazioni sui viaggi oggi non vengono più frite, come dicevamo prima, con le guide più tradizionali. Oggi tutto si è spostato ancora una volta su quello che sono i social, ovvero noi ci fidiamo maggiormente non più della comunicazione che ci viene data dalla destinazione, quindi dalle ATL, dalle brochure turistiche date direttamente dalle città. Paradossalmente quello di cui maggiormente ci fidiamo sono delle persone probabilmente anche a noi sconosciute, che sono cerche di amici che come abbiamo detto nella maggior parte dei casi magari conosciamo in maniera diretta, ma nella grande maggioranza dei casi non conosciamo neanche direttamente. Però li riconosciamo come dei testimonial di luoghi perché ci sono stati, perché leggiamo i loro contenuti e ci riconosciamo in quello che loro condividono quotidianamente, vediamo le foto, vediamo tutto quello che viene detto su una destinazione. Quindi oggi maggiormente quello su cui ci basiamo nella scelta dei nostri percorsi di viaggio sono contenuti condivisi sui social. Studi hanno dimostrato appunto dalle più grandi aziende che si occupano del settore, da Google a TripAdvisor, che addirittura l'83% dell'ispirazione di un viaggio, quindi ancora prima di decidere dove vogliamo andare, quando ancora stiamo sognando, immaginando dove è che vogliamo andare, deriva da quello che abbiamo visto sui social. E come viaggiatori, a maggior ragione rispetto al nostro quotidiano lasciamo moltissime informazioni, semplicemente perché ci piace far vedere quando siamo andati in un posto, ci piace far conoscere la nostra opinione, condividiamo le foto, condividiamo dei video, delle recensioni, diamo informazioni a chi ci chiede com'è stato un determinato posto, ovviamente le maggiori informazioni che vengono subito condivise sono quelle che riguardano l'enogastronomia e il cibo, cosa hai mangiato di buono in quel posto, cosa ti è piaciuto, me lo consigli, sono quindi informazioni veramente molto pratiche rispetto al viaggio. E c'è una grande differenza fra quella che è la recensione e quella che è la condivisione, perché la recensione è qualcosa alle volte un po' anche negativo, perché avviene post viaggio, io sono stato in un posto, mi viene più spontaneo lamentarmi di qualcosa, quindi fare una recensione negativa, piuttosto che invece tutto quello che sono le condivisioni spontanee. Una condivisione spontanea è il momento, vive dell'attimo, dell'emozione in cui io sono in un luogo, vedo uno splendido specchio, lo splendido specchio di un lago o una splendida opera contemporanea e ho voglia di condividerla con i miei amici e quindi immediatamente la posto. Quindi la condivisione è una traccia che viene lasciata dai viaggiatori e che rende i viaggiatori inconsapevolmente ambasciatori, testimonial di alcuni momenti, quindi abbiamo quello che sono inconsapevoli ambasciatori, appunto vediamo quello che è stata la condivisione di massa dell'opera d'arte sul lago di Seo l'anno scorso, oppure testimoni di un momento, quando viene condiviso un evento dove è bello esserci, pensiamo alla visita del Papa a Milano di poche settimane fa, oppure ci facciamo promotori di scoperte, abbiamo scoperto qualche bel luogo, qualche bell'angolo nascosto e ci piace far sapere che noi ci siamo stati. Ecco, fondamentalmente su questo è basato quello che è il suggerimento live rispetto ai luoghi di interesse turistico, attraverso ad esempio appunto la nostra applicazione e il sistema che abbiamo studiato che analizza, questo è un contesto molto tecnico quindi posso permettermi di parlare di quelli che sono big data, machine learning e intelligenza artificiale, attraverso un sistema che abbiamo creato siamo in grado di filtrare i big data che sono reperibili liberamente perché appunto condivisi e accessibili a tutti, filtrarli per informazione specifica di tipo turistico, questo ci permette di viaggiare meglio perché rispetto, ricordate all'inizio ho parlato delle guide Michelin, ma avrei potuto citare un colosso come l'Only Planet, le guide invecchiano nel momento stesso in cui vengono stampate, le informazioni continuano a fruire liberamente per le città perché fortunatamente le città sono molto più vive di una guida cartacea, ogni giorno si evolvono e non solo si evolvono le città ma si evolvono le persone che vanno a visitare luoghi, quindi una guida oggi al tempo di Spotify, al tempo di Amazon e di Netflix deve essere una guida che ci permetta di conoscere in tempo reale cosa sta accadendo e che segue i nostri gusti personali, quindi segue la personalizzazione della nostra modalità di viaggiare perché abbiamo detto siamo tutti diversi e abbiamo tutti le nostre esigenze. Quindi deve essere una guida sempre dinamica, sempre aggiornata, sempre che segua quello che abbiamo bisogno in quel momento, che ci proponga dei servizi che sono adatti a noi e alle nostre modalità di viaggio. Il futuro è ormai in arrivo, è ancora più in là di quello che è una guida in cui siamo noi a cercare o siamo noi a visualizzare dei contenuti. Oggi sempre meno le persone hanno voglia di leggere un testo, sempre meno le persone hanno voglia di dover digitare dei testi in delle tastiere molto piccole, quindi quello su cui si sta andando come direzione, adesso l'animazione non si vede, ma no si vede, sono i chatbot, ovvero un'informazione che è live, noi parliamo con i nostri device, siamo in grado di chiedere come un amico qual è il luogo più vicino a noi in questo momento, qual è la mostra che ci potrebbe interessare maggiormente, a che ora apre un luogo dove ci troviamo e il cellulare sempre più oggi, sempre più anche a livello di viaggio è in grado di darci questa informazione anche in maniera molto intelligente e molto aderente a quello che siamo noi. Quindi il cellulare diventa sempre più, la guida viaggio diventa sempre più un amico del posto, l'amico che prima conoscevamo in maniera diretta, con cui eravamo dei rapporti diretti e che ci accompagnava a conoscere i luoghi della sua città perché sapeva cosa stava succedendo in quel momento e conosceva noi come persone, questo è diventato oggi il nostro cellulare. E vi ringrazio, se avete domande sono qui a vostra disposizione. Grazie a tutti.